Ecco come mi alleno per avere una schiena così, lascia un like e salva questo video per supportarmi, parto con un po' di mobilità e comincio a scaldarmi con un pull down easy ma controllato, subito dopo esercizio madre con top 7 back off a rimatore, poi continuo con un cluster per i deltoidi ed in seguito il mio preferito, ovvero una variante del pull down singolo. Per concludere faccio un po' di alzate laterali a capo basso e poi visibili, ciao ciao!